Deve esserci qualcuno. Ehi! Jonah! Miguel! Mi sentite? Dove siete? Non credevo che la tempesta sarebbe stata così violenta. È tutta colpa mia. Avrei dovuto ascoltare Jonah e pensarci due volte. Non avrei dovuto prendere quel pugnale. Spero che nessun altro sia rimasto ferito. Nessun altro villaggio distrutto. Devo fermare questi cataclismi prima che sia tardi. No, è il suo tasseman. Grazie. Grazie a tutti.